Se c'è una cosa molto bella che mi disse in quell'epoca Cesare Garboli, che è una cosa che ha anche scritto, è proprio quella che i libri di Berenson sulla pittura italiana del rinascimento sono stati libri che hanno formato il gusto di tante generazioni e che hanno permesso a tante persone di appassionarsi alla storia e all'arte italiana. Questo per me quando ero ragazzo non era una cosa molto chiara perché consideravo veramente questi libri un po' difficili da decifrare, però resta per me affascinante quello che mi ha lasciato Garboli, cioè l'idea che questi libri abbiano fatto incantare qualcuno. E allora la domanda che mi pongo oggi è, questi libri sono stati pubblicati tra New York e Londra alla fine dell'Ottocento. Ecco, mi chiedo che cos'era questo corridoio tra l'Inghilterra e la East Coast degli Stati Uniti? Sì, certamente anche la parola transatlantico vuol dire questo, cioè vuol dire attraversare l'Atlantico, partire da Southampton e arrivare a New York. Ma mi chiedo oggi per quanto tempo questa è stata la strada della ricchezza del mondo e la strada della cultura del mondo. Sicuramente nell'epoca di Berenson lo era. Quindi potremmo dire che Berenson ha contribuito a formare il gusto delle persone più ricche del mondo di quell'epoca. Sì, se poi per ricco intendiamo naturalmente non solo chi ha tanti soldi ma anche chi ha voglia di investire nella cultura. Ed ecco allora Berenson che sta accanto alle persone che comprano le opere d'arte. Qui mi rendo conto che quando si inizia a parlare del danaro entra dentro un altro tipo di cosa, un altro tipo di pulsione. È difficile dire che il danaro sia il piacere di qualcuno. E Berenson ha sicuramente guadagnato tanto, devo dire probabilmente grazie molto alla moglie che è quella che l'ha aiutato. Cioè se mi permettete il confronto forse la moglie di Berenson ha fatto un po' per lui quello che la mamma di Sofia Loren ha fatto per la figlia. Cioè la signora Scicolone era Sofia Loren, come probabilmente la signora Berenson era Berenson se la consigliamo in quell'aspetto lì, cioè della creazione di una carriera. Ecco allora stiamo un attimo su quello che vuol dire creare una carriera sulla strada maestra del mondo occidentale. Ripeto, quando l'occidente era il mondo. Questo è molto interessante. È molto interessante cercare e immaginare di entrare in quelle case. Lo so, oggi si può ancora fare. Per esempio si può andare a Boston nella casa della signora Isabella Stewart Gardner, che è stata una grandissima collezionista di arte rinascimentale. Sono bellissime le cose che la signora Stewart Gardner... Ancora oggi entrare nella casa di Isabella Stewart Gardner è un'esperienza, è un'emozione e probabilmente è un modo anche per accendere la nostra sensibilità emotiva, la nostra sensibilità storica, se vogliamo provare a connettere le cose l'una all'altra e riportarle a quello. Però alla fine la visita di una casa museo resta lettera morta. Allora ci conviene provare a immaginare appunto, a immaginare, utilizzare l'immaginazione. Allora con l'immaginazione mi vengono in mente altre cose, cioè che probabilmente nell'America puritana, in genere la si chiama così, di quella parte del continente americano c'erano tante altre cose. Per esempio c'erano anche persone che volevano fare delle scelte differenti, magari non proprio nell'epoca di Berenson, subito dopo. Penso per esempio a Filadelfia. Filadelfia era una delle città più ricche degli Stati Uniti. Ebbene a Filadelfia c'è la collezione Johnson, che oggi sta nel Museo di Filadelfia, che è stata una collezione di primitivi italiani, cioè di pittura antica italiana seguita da Berenson. Eppure proprio a Filadelfia c'è stato un modello di collezionismo completamente differente, quello del signor Barnes, che era un modello di collezionismo fatto di cose per i negri, cioè fatto per altre persone, per persone di altra razza. Questo secondo me rende la possibilità di immaginare quell'America così pulsante, così forte. E allora mi viene in mente che dobbiamo davvero per forza attingere ad altre cose. E secondo me la persona che ha fatto vivere meglio questo tipo di America è stato Orson Welles. Ed è stato Orson Welles in un film che trovo molto bello che si chiama L'orgoglio degli Anderson. E perché lo trovo così bello? Perché in quel film Orson Welles ha voluto misurarsi con lo scrittore, che mi pare si chiamasse Boof o qualche cosa, con lo scrittore del romanzo su cui si è basato, e ha provato a, come posso dire, a tirare fuori dalle pagine di quel libro. Ha fatto insomma un'operazione che oggi in teatro si farebbe. Comunque, ecco, voglio dire che secondo me esistono poche cose come l'orgoglio degli Anderson di Orson Welles per vedere veramente che cosa è stata la potenza e la crescita dell'America sull'Ice Coast in quel periodo, cioè tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Cos'erano quelle case sovraccariche, le case scaldate, la presenza dell'acqua calda. Queste sono le cose che trovo più sorgive e più interessanti, non soltanto le opere d'arte alle pareti. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie per la visione!